Capitolo 10 Poi, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potestà di cacciare gli spiriti immondi e di sanare qualunque malattia e qualunque infermità. Or, i nomi dei dodici apostoli son questi. Il primo Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Toma e Matteo, il publicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, quello stesso che poi lo tradì. Questi dodici mandò Gesù dando loro queste istruzioni. Non andate fra i gentili, e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E andando, predicate e dite, il regno dei cieli è vicino. Sanate gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebrosi, cacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non fate provvisione né d'oro né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Or, in qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi chi vi sia degno, e dimorate da lui finché partiate. E quando entrerete nella casa, salutatela. E se quella casa ne degna, venga la pace vostra su lei. Se poi non ne è degna, la vostra pace torni a voi. E se alcuno non vi riceve, né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scotete la polvere da vostri piedi. In verità, io vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. E guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mande tribunali, e vi flagelleranno nelle loro sinagoge, e sarete menati davanti a governatori e re per cagio mia, per servir di testimonianza dinanzi a loro e dai gentili. Ma, quando vi metteranno nelle loro mani, non siate in ansietà del come parlerete, o di quel che avrete a dire, perché in quell'ora stessa vi sarà dato ciò che avrete a dire. Poiché non siete voi che parlate, ma è lo spirito del Padre vostro che parla in voi. Or, il fratello darà il fratello a morte, e il padre il figliuolo, e i figliuoli si leveranno contro i genitori, e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a cagion del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico, in verità, che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figliuolo dell'uomo sia venuto. Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo signore. Basti al discepolo di essere come il suo maestro, e al servo d'essere come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebub, il padrone, quanto più chiameranno così quei di casa sua? Non li temete dunque, poiché non v'è niente di nascosto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia a venire a notizia. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo voi nella luce, E quel che udite dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Due passeri, non si vendono essi per un soldo? Eppure, non ne cade uno solo in terra senza del padre vostro. Ma quant'è a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Chiunque adunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio, che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegrerà davanti agli uomini, anch'io rinnegrerò lui davanti al Padre mio, che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a metter pace sulla terra, non son venuto a metter pace, ma spada. Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, e la figlia da sua madre, e la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me, e chi ama figliuolo o figliuola più di me, non è degno di me. E chi non prende la sua croce, e non viene dietro a me, non è degno di me. Chi avrà trovato la vita sua, la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per cagio mia, la troverà. Chi riceve voi, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta come profeta, riceverà premio di profeta, e chi riceve un giusto come giusto, riceverà premio di giusto. E chi avrà dato da bere soltanto un bicchier d'acqua fresca ad uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà appunto il suo premio.